Sì che puoi, devi andare via a toccarlo No, basta che gli lanci contro il suo amico Eh, lanciare l'angeli in angolo La sua direzione Oh, cadono tutti Io l'attento No, cosa cazzo ti è? Oddio! Oh, che è il mio L'avete ancora sbloccato? No, ciao vedi, lui rimane lì per sempre Facciamo livelli No, no, no Ma ciao, hai intenzione di rialzarsi o no? Gli ho fatto Poi nel nostro gruppo potremmo utilizzare i messaggini Eh, peggio Oddio Sì ma appena puoi schiacciare L1 e L2 Ma come si fa se la salvo succede? La salvala 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 L'ho salvata L1, no L1 e L2 Eh, la sto salvando Oh, c'è nessuno Adesso c'è No, no, lascialo andare E ciò che era ancora lì pagato, lui Rimacce Bella Qua tra le mani e colpiscono ancora con rimacce Siamo nella riga adesso un po' Ehm 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 In realtà col cazzo che esultavano così, eh Edge, quanto mi sta sulle palle Poi c'ha gli occhi storti E se tu parla di che cazzo di occhio guardi? Edge è strabico per me Per voi è strabico no, Edge Sì, Edge è strabico Dunque dite ciò, se volete vedere più video di questo tipo Giochi diversi che sono più belli Tanto a novembre prendiamo il 2012 Sì, ecco E facciamo così Su internet Stunner 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 Io esco Ehm Tu ti metti sui giochi di guerra Come fanno Come fanno E anche fantascientici Infatti quando usciranno ogni via sera Ci saranno anche i video su quelli Le vecchie mappe Quanti ricordi sul computer da piccola Giocare online Giocare online Giocare online Giocare online Io avevo Bugs Bunny per il computer Anche, anche te Io avevo anche E tu me l'hai passato eh Io avevo Tasmany anche Oh va che ciavo se ne vuole andare eh Arriva ciavo, attento Oh Oh Osti No Ah minchia Non sono buttato a 6G Beh l'ho buttato giù Ma che pugni tira andate a te però Non lo so però fanno molto male Io l'occupe la resistenza appena torno su HBK Show Mike Oh stavo per cadere aiuto sto per cadere No Sono caduto Oddio mossa perfetto Per far cedere il HBK Finiti di schiacciare Start Mol famigliere aiuto Oddio cosa gli fa? Undertaker E lo butta giù Uuuu Dai che gli hai ribaltato tutto Bravo Simo vieni su No io devo fare la mossa finale E la puoi far su Tanto HBK non si rialza più Ok io non ho mossa finale E ma come fai salvato? Cioè una volta che l'hai salvato come fai? E niente ti rimane E poi fai Come la fai normalmente Calcio nello stomaco No Ho buttato giù Bella ho buttato giù Ciao Oce di là cambia Bello Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare Ce la faccio Tu recupera Aspetta perchè se glielo attacchi subito lui te la ribalta la mossa Guarda adesso guarda Guarda qua No no non farlo Vai Ti ammazzi Oh my god Aspetta Aspetta No No Vi inizio a rialzarvi Tanto adesso volo la gioca al mercato Se io vi conto c'è 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 cazzo Aiutami questa macchina la mossa sottomissione aiuto Ok l'ho sventata Non c'ha il tipo contro il tavolo Non contro il tavolo Aiuto mossa di sottomissione aiuto Vi scherci a tutti i tassi Oh ma notate Eh ma ma ti rotto le palle però non sempre per terra Ok 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 Si dai Shawn Michaels che blocca un cacciolidico Di Kane Si Gli infatti Gli infatti Gli fai suplex Guarda come si rialza nel Taker E' lui Beh Doppio big boot Io saldo Sai anche te ti conviene per questa stanza Eh non non riesco Perdi il coso per Hai messo le ale tu? Se usi gli oggetti con le ale perdi le cose per le mossa Io non lo so se ho messo le ale Non so anche che cazzo è No! E quando hai messo Uh ho dato c'è un cacciavo Meno male Quando hai fatto le cose hai messo le ale o sle ale? Non mi ricordo Eh ma hai messo le ale Si hai messo le ale perchè tanti detti non ti si Beh che tanto adesso anche cosi Ok Non chiudere Non può Con questa non chiudere Ah Adesso la strada Così qui E' la strada Le drop Favoloso Vai su vai su Vai su vai su Cioè mi guadagna le mosse finali Non lo so Vai su non ti preoccupare Adesso io arrivo Allora GBL appena arriva su E' morto Ma chi è GBL? E' GBL cosa? Salvata Recupera recupera Mi continuo giù da ciao E' sei capito Io vado giù da ciao E' un minuto No Ma buttato giù ihu quel pillolo Ciao c'hà la mossa finale sto scemo Oddio 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 no no noyoo no, l'ha salvato Dio se la fanno non è cazzi se la fanno non è cazzi figa, ma il mio libro di inglese è una cosa impressionante diventa una depressione e un esercizio muove sempre qualcuno mossa finale, la faceva oh, si muove ma che è il libro perché non l'esercizio muove sempre qualcuno M1 subito oh angevita The guarda guarda ciao ciao dai vieni qua per pochettiche grazie per il mio simone poi ci provo maggio no ho fatto un mostro finale per fare anche la mostra no lascia ti faccio la nostra oh 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 oddio è mossa finale mi butta giù non chiudere li massacriamo attento scende a farmi la mossa buttati giù vagli il leg troppo dalla gabbia buttati appunto sei al tavolo si si è andato e ciao lì è no cazzo chiuso è ma quello che gli faccia ciao eh sei tu si però non sto schiacciando niente quindi potrebbe liberarsi non l'ho fatta apposta che ho fatto il cazzo quale tue mosse di sottomissione The Undertaker with two most of sottomission come cazzo parlo invece ci sta no dai ti prego ultima che poi dopo i video durano troppo eh e gli spazi e i tagli si ma ne abbiamo fatti 12 no che 12 ne hai fatto uno sulla luna uno del breast